E bentornati e benvenuti qui ragazzi nel mio canale youtube come sempre prima di iniziare questo gameplay ti ricordo che ovviamente in descrizione se vuoi puoi acquistare questo ma non solo tantissimi altri giochi scontati in descrizione in più ti ricordo ovviamente i miei canali social e tanta altra bella robetta Allora ragazzi oggi vorrei vendere questo trattore qui perché comunque l'abbiamo visto e stravisto ma vorrei comprarne uno molto potente perché dobbiamo seminare ragazzi che cosa le patate le patate poi come ultimo episodio seminerò le canne da zucchero come ultimo ultimo episodio proprio Quindi ragazzi vado qui vado su trattori grandi anche se questo è già grande e ne abbiamo già uno grande in farm però ne abbiamo già bisogno di uno ancora più potente più grande più più auma auma quindi hashtag auma auma Vendiamo questo qui per 43.000 euro vai perfetto ottimo l'abbiamo venduto anche se peccato perché era un bel trattoruccio però ne vogliamo prendere uno bello bello grande Quindi trattori grandi andiamo a vedere giù la nostra lista allora questo è uscito da poco ma anche questo è uscito da poco questi due ragazzi sono usciti da pochissimo quindi trovate sul modab ovviamente Io pensavo questo qui perché questo qua almeno non ha discorso pesi mentre questo che sarebbe una serie americana questo è discorso pesi che quasi quasi è opportuno per questa serie Ma oggi prendiamo questo perché dobbiamo seminare le patate allora configurazione facciamo così Si è un motore un po' più potente e europa usd usd mettiamo tutto usd perché siamo ovviamente in america mettiamo anche questo 2 1 2 mettiamo 2 ma si tutto 2 cambiamo allora bitcoin si i lampeggianti praticamente interior ne mettiamo 3 non lo so cambia il cosetto ok ok va bene compra ok e compriamo ovviamente anche la relativa similatrice per le patate che adesso vado a cercare allora patate similatrici non c'è una similatrice più potente per le patate abbiamo solo questa vero? si solo questa qua ok allora compro questa per 46 mila euro vai compriamo e ovviamente i successivi semi ma quelli non dobbiamo comprarli perché abbiamo la mod quella utile andiamo a vedere il nuovo trattore che me l'ha spawnato qui su bello il sound è tanta roba vediamo l'interno anche l'interno ragazzi è tantissima roba mi piace l'interno fantastico fatto bene l'interno comunque pian piano chiuderò questa serie ragazzi ovviamente manca poco 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 come ultimo episodio ovviamente mettiamo le cani da zucchero come ultimo episodio poi basta poi dopo quello facciamo quella serie che avevo lasciato come test mappa del sabato e poi basta ragazzi questo è l'ultima penultimo episodio vado in farm ricarico di semi di patate poi iniziamo a similare le patate ovviamente quello che riesco a fare adesso lo faccio adesso quello che non riesco lo faccio in live su twitch dove vi ricordo che se volete passare potete passare e vi ricordo inoltre che se volete acquistare questo ma non solo tanti altri giochi scontati lo potete fare giù dai mi link di instant gaming mi raccomando lasciate un bel like per supportare il mio contenuto e anche iscriverti con una bella iscrizione e niente detto questo ovviamente andiamo in farm ed eccoci ovviamente in farm che adesso ricarichiamo di patate questa seminatrice che devo comprare i semi perché mi sa che non ne ho allora no 35.000 no magari ne facciamo 9.000 vediamo 9.000 dovrebbe bastarmi sempre se me la fa caricare così si esatto comunque adesso proviamo anche questo fiat si questo fiat vabbè questo john deere 820.000 vediamo un po' com'è alla prova anche se ho visto che è un po' lentuccio però per similare le patate penso che basta e avanza quindi andiamo subito nel terreno a vedere com'è strutturato questo 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 john deere vai che la si va ecco il primo terreno eccolo qui perfetto facciamo un po' di retromarcia vai vai che la si va abbassa ok e accendi vai perfetto ah ma prima ha ragione prima sono stupido io sono un pirla perché prima devo fertilizzare e per fertilizzare ragazzi devo usare come si chiama perché ho anche le mucche quindi devo utilizzare la roba per le mucche intanto io ci ho male un occhio però hashtag occhio volevo provare questo qua però costa relativamente troppo quindi vediamo cosa abbiamo qui ma non abbiamo quello là per i liquami eccolo qua cari botti liquami ne abbiamo uno un po' più piccolo uno un po' più piccolo che non mi mannaggia sto occhio che proprio oggi mi deve far male allora prenderei questo qua da 50.000 che è da 58.000 targa nessuna targa nessuna compro vado prenderlo ragazzi e vado anche a ricaricarlo così almeno facciamo le cose un po' realisticotte ed eccoci ovviamente dove c'è la carobotte e ho visto ragazzi che come macchinario extra ci richiede un'altra roba che adesso vi faccio vedere quindi mi aggancio qui con il fregnetto hashtag fregnetto vai allora cari liquami abbiamo preso questo qua e dobbiamo prendere questo qua da 10.000 euro credo quindi per sicurezza vado a vedere qui esatto questo qua da 10.000 euro ragazzi che lo compro subito quindi hashtag compro subito allora però come va messo quello lì e in effetti fa un po' di fatica in ripresa sto poco cavalleria secondo me questo trattore però non ci facciamo domande vedi anche la retromarcia ragazzi la retromarcia fa fatica eh e non so per quale diavolo di motivo e non ho nessun'altra mod particolare alla fine boh non lo so fatemi sapere voi se magari lo sapete vediamo come si aggancia ah così con la semplice Q vado a ricaricarlo ragazzi così lo proviamo oggi e poi vediamo anche quanto tempo mi rimane penso che oggi liquamiamo i terreni e se riesco liquamo e semino anche ma penso che faccio solo la liquamatura perché la semina è molto particolare è molto più lunga è molto più particolare quindi magari la semina la facciamo altre due puntate poi stop 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 is the pain is on the serious carabouse eh hashtag carabouse allora vediamo se questa serie si se questa style per va che mi prende il liquame penso proprio di sì adesso lo vediamo insieme quindi mettiamoci qui eh no questo è latte e dove wow qua dove qua 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 eh non lo so hashtag qua ricarico di liquame perfetto eh beh sì dai ne abbiamo di liquame assoluta mound assoluta mound andiamo nel terreno mi metto in posizione operativa direi che comincio da questo qua sotto ragazzi che bello grande infatti non so se riuscirò per l'appunto fare tutti i tre terreni oggi ma quello che riusciamo facciamo ragazzi eh quello che riusciamo facciamo poi magari nella prossima puntata metto anche il volante sì dai perché oggi mi sta anche relativamente bene in questo periodo da me quindi mi sa che tornerà anche a Eurotrack adesso vediamo un attimo appena fa un po' ancora un po' più fresco perché tutto sommato fa fresco sì ma non abbastanza però adesso vediamo con il volante la prossima volta dai vediamo vediamo siamo fiduciosi vado in farm ragazzi così faccio anche la copertina perfetto ragazzi vediamo un po' come funziona questo macchinario vediamo anche un po' come funziona il trattore intanto mi è arrivato ma perché non funge ma vedi che ah eccolo fa un po' di fatica in effetti è bello che è un trattore grande ragazzi pensate se era un trattore piccolo stavamo qua a vent'anni non lo so se sto fa giusto ma secondo me sì eh ah perché ok ha ripreso strano sto trattore eh ha ripreso molto 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 strano ragazzi molto veramente strano non lo so perché però vabbè alla fine che sarà mai alla fine è così raga alla fine è un trattore americano e va bene spegniamo qua il fregnetto allora gira 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 forse perché è la combinazione americana che va così piano non lo so non lo so non lo so vedremo vediamo che ha bisogno di coppie dobbiamo mettere le marce ok ce la si fa ce la si fa raga ce la si fa fertilizziamo i terreni quest'oggi con la cacca degli animali hashtag animali perché mettere l'hashtag cacca poi youtube chissà cosa capisce giusto youtube sì esatto salutiamo anche il buon tab che ci segue sempre vai gira 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 madonna che lento ed è un trattore grande ragazzi mi sa che lo vendo sì sì mi sa che lo vendo questo trattore perché alla fine è buono però non mi soddisfa non boh non lo so vedrò vedo anche se vi piace a voi se non vi piace ovviamente lo tolgo perché alla fine è bello sì ma dopo un po' insomma perché è bello che è realistico perché ha un rumore di cambio marce no però cambia troppo le marce troppo in fretta e non va bene no raga non va bene no secondo me poi non so anche secondo voi ditemelo a voi la vostra ovviamente ma secondo me non va bene che vedete come fa cioè nonostante che io sia in movimento lo trovo un po' strano ragazzi un po' molto molto veramente strano vabbè io ragazzi per il momento purtroppo mi fermo qui non abbiamo avuto il piacere di sfruttarlo bene questo trattore perché sono rimasto un po' sni cioè non mi piace moltissimo magari forse il modder lo sistemerà perché comunque sono in f10 qua dice io non ho le marce quindi non lo so purtroppo sni sni purtroppo sni ragazzi veramente non mi piace non non mi gusta era giusto per farci un video per vedere com'è ma raga niente per il momento mi fermo qua voi come sempre commentate iscrivetevi lasciate un bel pollicioni su mi raccomando come vi vedete con i vostri amici vi ricordo che potete acquistare farming 25 giù dai link partnership giant e detto questo vi lascio come sempre con la sigla e alla prossima ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti